la mano destra con la pere dietro giusto se prima con lo schema 3 la mano esterna in campo ora devi fare in modo che entrambi le mani sterili non avranno una mazzare con questa e questa dietro ora ora si fa il centro di spazio si è complicato la vita per niente ci sono altri in santi per dare le fronte a lei non è una parte di spazio non sei qua è un passaggio 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 è un passaggio